Buongiornissimo ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa sera vi porto ad un evento a cui sono stata invitata, si tratta del concerto di Remo Anzovino e di Roy Paci che si terrà in Castello a Udine. Sto per partire, sono stata invitata dallo staff di FWG Live Experience che è un blog che si occupa di turismo in Friuli per farlo scoprire al pubblico che non conosce questa regione e appunto io ho cominciato a collaborare con questo blog dai primi di marzo mi pare, se non ricordo male, e appunto sono una FWG Social Ambassador per loro, quindi mi hanno invitato, ovviamente non solo la sottoscritta, a partecipare in maniera gratuita al concerto e prima avrò l'opportunità di appunto prendere parte sempre in Piazza Castello a Udine ad un aperitivo, appunto poi non so esattamente cosa ci sarà, direi che ci vediamo direttamente la, andiamo. Solido non aver fatto grandi riprese in serata, ma in ogni caso spero che quelle che verranno le apprezzerete, mi vedete appunto con uno dei gadget che ci hanno legato durante l'aperitivo. Innanzitutto io ringrazio lo staff di FWG Live Experience intanto per i gadget, tra cui questa una dieta più una serie di altri gadget e un grazie anche perché ci viene data la possibilità di partecipare a delle esperienze che forse non avremmo la possibilità di fare, tra cui appunto il concerto di Roy Paci e Remanzo Vino a cui ho potuto assistere. Prima di lasciarvi alle riprese, in ogni caso vi lascio in descrizione, come al solito, i link ai miei social e anche il link al blog di FWG Live Experience con cui collaboro. Se volete qualche informazione, qualche cosa, avete qualche domanda da farmi, potete lasciarle in un commento qui sotto, potete lasciare assolutamente un like e condividere questo video con i vostri amici. Detto questo, io vi lascio alle riprese. Grazie a tutti. 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 Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life. Noi ci vediamo al prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video.